Vinca il migliore? Speriamo di no. Una delle frasi celebri del Paron Rocco, originariamente declinata rigorosamente in Triestino, è il titolo del nuovo libro sull'epopea del Paron Rocco, ad opera del giornalista Guido Barbato di Antenna 3. Lui aveva la grande capacità di motivare i calciatori e di tirarne fuori molta della loro umanità, spesso indagando sui loro eventuali problemi attraverso le mogli e le fidanzate, quindi un grande motivatore e un grande psicologo. Vediamo ragazzi, dai, 20 secondi di questo lavoro qua ben fatti, non so perché che servi, ma va bene. Questa volta però la storia non viene declinata dal punto di vista triestino, ma padovano. Ed ecco che, dopo i bei volumi consegnati agli annali dal maestro Dante di Ragonia e dalla penna brillante di Giuliano Sadar, arriva il momento di tornare a raccontare i tempi del Padova, del battitore libero, delle bistecche e del vino rosso come motore delle prestazioni in campo. E soprattutto, proprio citando uno dei volumi storici, quella figura chiave nello spogliatoio, come un gemello di se stesso, quell'essere al tempo stesso padre e paron. La figura di un padre. Tenete presente che siamo a dieci anni dalla fine della seconda guerra mondiale, ma non siamo ancora nel boom economico. Padova è una città in grande espansione, ma ha ancora delle tracce di modestia, di povertà, dal punto di vista proprio del suo prodotto interno e delle persone che la abitano. Alcuni di questi giocatori non hanno esitato, a distanza di oltre 60 anni, a descrivere Rocco come un padre. Il libro di Guido Barbato verrà presentato domani alle 18 alla libreria Lovat di Trieste, alla presenza dei figli del Paron, Tito e Bruno. Sobavica il migliore? Speriamo da no!